Primo incidente sul lavoro in questo 2020 è accaduto in via della Fiorandola che si trova nell'immediata periferia della città di Arezzo. La zona è quella di Pescaiola, erano circa le 11.30 quando un 61enne a retino si trovava all'interno di un'azienda orafa di cui è titolare. L'uomo pare fosse salito su una scala per cambiare una lampadina e per cause in corso di accertamento, quando si trovava sugli ultimi gradini, è caduto a terra. Immediato l'allarme al 118 a retino che è arrivato sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Verificate le condizioni del 61enne è stato allertato il Pegaso che è atterrato all'aeroporto di Molimbianco vicino al luogo dell'incidente. Nell'impatto a terra il 61enne ha riportato ferite e traumi in più parti del corpo, le più importanti alla testa e al bacino. L'uomo è stato quindi trasportato in ambulanza fino al Pegaso e una volta stabilizzato è partito a bordo dell'elisoccorso in codice rosso verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Sull'accaduto indagano i tecnici dell'Ufficio Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL Toscana Sud-Est, giunti sul posto dopo l'infortunio.